Rotation e Collision Permette di gestire la rotazione delle particles Una volta fissati i parametri basilari come il numero di frame di rotazione tramite spin time la variazione con variation espressa in percentuale e lo stato iniziale tramite phase possiamo gestire in maniera random, quindi casuale oppure definendo gli assi e la variazione con Use Defined Inoltre possiamo gestire anche le particles in fase di collisione Con Interparticles Collision, una volta che l'abbiamo abilitato possiamo gestire l'intervallo in base ai frame che di default è 2, la percentuale di rimbalzi e la variazione degli stessi disperdendole nello spazio indipendentemente nella variazione degli axi X, Y e Z Naturalmente quest'ultimo è attivo solo se abbiamo in scena un deflettore e quindi un oggetto che compie tale funzione Sarà tutto più chiaro nelle prossime lezioni dove vedremo tali argomenti Grazie a tutti